Scuola Preparatoria Comunitaria José Martí Apprendere per condividere Oltre all'attività didattica nella preparatoria si svolgono laboratori di musica e danza Di pittura e di cucito C'è poi il laboratorio di teatro e la radio comunitaria Exguateca 92.1 FM E la logoteca per i bambini della comunità Infine il laboratorio di comunicazione è quello che ha permesso la creazione di questo video Grazie 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 Grazie